Oggi per i più malinconici vi presentiamo la Condor, chi di voi di una certa età non si ricorda questa famosa pistola? Ancora in produzione e in commercio, la Condor a gommino di gomma. Sicuramente questo non è un gioco da soft air ma è una pistola più adatta ai ragazzini per divertirsi, la famosa Condor ad aria compressa. Si carica e spara. Tutta in metallo ancora prodotta come 40 anni fa e dalla stessa ditta. Un fantastico ricordo, è una pistola ancora attualmente che si vende bene per i ragazzi.